Marco, oggi una gran lotta Non c'è niente da ridere Una gran lotta Ma alla fine l'hai portata a casa Ma sì, oggi secondo me è stata una delle peggiori partite di quest'anno Ho giocato veramente male Non sentivo la palla Però sono stato lì e sono riuscito a portare a casa questa partita Non si era messa benissimo Ho tante chance al primo set 5-6 palle break importanti non sfruttate Poi alla fine sono riuscito a chiudere il set Il secondo ero sotto break Ma ti dico, veramente brutte sensazioni Però vedremo, magari adesso mi vado ad allenare un po' Per provare un po' di più questi campi, queste palle E provare ad avere migliori sensazioni Ma nell'allenamento dei giorni scorsi così sentivi queste brutte sensazioni o ti sentivi meglio? Sicuramente sono arrivato qui la domenica Quindi ho avuto solo un giorno per allenarmi il lunedì Ho giocato ieri il primo match, anche ieri non avevo buone sensazioni Oggi ancora peggio Domani avrò tutto il giorno per allenarmi, visto che giocherò venerdì Proviamo un pochino a mettere ordine in questo tennis perché sono arrivato qui e ti ripeto non avevo buone sensazioni Adesso contro Cipolla o Golubev, sono due giocatori che conosci bene? Beh, tutte e due li conosco molto bene, più tardi andremo a vederli un po' giocare E poi vediamo chi vincerà e vedremo un pochino il match loro Questa tua stagione negli ultimi due mesi, dopo un inizio magari un po' difficoltoso con le qualificazioni ATP Hai raggiunto cinque semifinali Challenger, una vittoria Quindi ti senti bene in questo periodo? No, no, in questo periodo mi sento abbastanza bene, sinceramente Un po' questa settimana sono arrivato appunto tardi da Perugia Non sono riuscito ad allenarmi tanto, a provare i campi, le palle, un po' diversi Però comunque appunto ti ripeto, domani ho tutto il giorno per allenarmi E ricominciare a essere un po' più ordinato in campo Un'ultima cosa, ci spieghi la scelta di continuare a giocare sulla terra in Italia Anziché andare a giocare le quali a Wunder Tanti hanno, pensano che sia una scelta sbagliata Io con il mio staff ho fatto questa scelta, giusta o sbagliata che sia Te lo dirò tra qualche settimana magari Adesso lo tengo per me Ok, grazie in bocca al lì